Dopo aver tolto di mezzo Raven e Cyborg della dittatura, adesso Lanterna Verde è riuscito a liberare Deathstroke della insurrezione. E ora possiamo andare avanti con questo secondo capitolo della modalità storia. Dobbiamo sapere per chi lavorano questi tizi. Che succede Wonder Woman? È arrivato Sinestro. Forza Lanterna Verde, sbrigati a ricaricare il tuo anello. Wonder Woman non può resistere in eterno. Anche Sinestro è della dittatura, se lo vedete con il casco. Avete visto anche Sinestro fa le forme lanterniane? Eccoci, è un altro minijou della modalità storia. Questo ti piacerà un casino e lo guarderanno milioni di visualizzatori, queste forme lanterniane. Quando fate la motosega dovete premere ripetutamente i tasti, triangolo, cerchio, X e quadrato. Ormai gli scontri lanterniani fra Lanterna Verde e Sinestro sono entrati nella storia. Io vi aspetto nella prossima video recensione come eliminare Sinestro, anche se è in versione dittatura con quel casco che ha in testa. Io vi saluto, arrivederci.